che promesse puoi fare agli italiani se sanno che già con gli alleati rompi la parola data Enrico Letta lancia una stoccata Carlo Calenda che oggi ha deciso di rompere l'alleanza col PD Una decisione che riguarda solo il suo partito, azione, e non più Europa che invece andrà avanti con i Dem Intervistato dal Tg1, il leader del PD ha attaccato Gli italiani hanno visto benissimo c'è stato un patto sottoscritto e una parte ha deciso di non onorare la parola data Secondo me in politica, come nella vita, è abbastanza grave parlando del suo partito Poi, il segretario ha aggiunto, il PD sarà ancora più determinato rispetto a prima E' chiaro che gli italiani, con queste leggi elettorali, dovranno scegliere se essere governati da Meloni, dalle destre, o da noi Questa scelta è netta e Calenda ha deciso di aiutare la destra, facendo quello che ha fatto Il leader del PD, poi, ha chiuso di nuovo la porta a Giuseppe Conte e al M5S Sono molto determinato, ora si parte in campagna elettorale, le alleanze sono definite E' stato Conte a far cadere il governo Draghi Si è assunto un'enorme responsabilità, e per noi questo è un fatto conclusivo Lo stesso Conte ha commentato duramente tutto quello che è successo oggi a sinistra Questo disastro politico mi sembra lontano anni luce dal progetto riformistico realizzato durante il Conte II E infine, la Santa Alleanza Repubblicana messa su per contrastare Meloni ora si indebolisce e perde pezzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti